Ciao a tutti, vuoi cambiare la tua vita? Allora puoi iniziare a porti queste sei domande. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo l'appuntamento di questa sera, venerdì 14 febbraio 2020, San Valentino a Torino. A San Valentino, Vienna Torino, al mio seminario dal titolo Come avere fascino per farti amare. Il riferimento è il 333 15 11 703. Poi ti ricordo l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, full immersion, 9.30, 19, autostima e seduzione, innamore al lavoro. E il riferimento è sempre il 333 15 11 703. E inoltre, inoltre, ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco su tre livelli di abbonamento. Livello base con video lezioni mirate, livello top con le video lezioni più le registrazioni dei seminari dal vivo e livello master consulting con in più ancora, a tutto il resto, anche una consulenza telefonica. Inoltre, ti ricordo altre cose, ad esempio, che puoi abbonarti al canale Felicità Benessere per diventare sponsor del canale, diciamo così, e inoltre diventare moderatore e avere la possibilità di visibilità in live. Bene, detto questo, andiamo avanti, detto questo, andiamo avanti e vediamo se vuoi cambiare veramente la vita quali sono queste sei domande che devi porti. Sono domande fondamentali perché noi dobbiamo renderci conto di dove siamo e dove vogliamo andare fondamentalmente perché questi sono i due parametri fondamentali. Sono i due parametri fondamentali. Se noi non sappiamo esattamente dove ci troviamo, beh, anche se sappiamo dove vogliamo arrivare sarà difficile farlo perché non sapremo quali risorse ci servono, non sapremo che strada fare. Allo stesso modo, se sappiamo esattamente dove siamo, ma non sappiamo esattamente dove vogliamo arrivare, beh, non riusciremo ad ottenere nessun vantaggio, nessun vente favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Dobbiamo rispondere a queste domande perché la domanda ci permette di focalizzarci. La domanda ci permette di focalizzarci su quello che vogliamo raggiungere, su quello che vogliamo ottenere. La prima domanda è che cosa non mi soddisfa nella mia condizione attuale, perché se voglio cambiare ci deve essere qualcosa che non mi soddisfa. Questa insoddisfazione, questa domanda dobbiamo ripeterla almeno per le sei aree principali della nostra vita. L'area, diciamo, nei rapporti, nelle relazioni con la famiglia d'origine, nelle relazioni con la famiglia acquisita, nelle relazioni sentimentali affettive, nelle relazioni sessuali, nelle realizzazioni dell'immagine esterna del sé, quindi lavorative, nel denaro, nel lavoro e nell'immagine interna del sé, nella realizzazione verso noi stessi. Ad esempio, se abbiamo autostima, se non ce l'abbiamo, quanta ne vorremmo, insomma. Ecco, per ognuna di queste aree dobbiamo identificare quali sono le cose che non ci soddisfano. La seconda domanda è invece portarci sulla positività, cioè cercare di capire quali sono stati i nostri successi, perché se noi sappiamo quali sono stati i nostri successi, abbiamo, abbiamo, riusciamo a capire quali sono le nostre risorse, quali sono i successi che abbiamo portato fino a oggi. Quali sono i successi? Questo è importante. Troviamo le nostre risorse, perché dove siamo riusciti ad avere successo, perché abbiamo qualcosa di, ovviamente, di definito. Intanto dobbiamo tenere presente poi un'altra cosa, nella terza domanda, in che modo voglio cambiare la mia vita, dove voglio arrivare, in ognuna di queste aree, cosa vorrei ottenere. Il cambiamento avviene comunque, avverrà comunque, perché il cambiamento è un qualcosa di, che non, ad cui non possiamo opporci. Quindi, però, dove vogliamo direzionarlo? Quindi, per ognuna di queste aree dobbiamo chiederci dove vogliamo arrivare. Ecco, quindi abbiamo definito un altro punto fondamentale. Dobbiamo prenderci tutto il tempo per dare la risposta. La quarta domanda è, quali sono le priorità? Che scaletta? Quali sono le priorità? Perché se devo fare 100 cose, non posso fare tutte in parallelo. Da una parte devo cominciare. Quindi, quali sono le priorità? Questo è importante, capirlo. E poi un'altra domanda, come sto sprecando il mio tempo? Perché se spesso noi sprechiamo il tempo, facciamo cose inutili. Ecco, quindi, quali sono le cose inutili che faccio oggi? E poi non farle più. Quindi, quali sono le priorità? E quali sono le cose, è la quinta domanda, quali sono le cose inutili che faccio oggi? Questo è importantissimo capirlo. E poi, infine, diciamo così, come sesta domanda, quali sono le emozioni che provo nel piacere di cambiare? Che emozioni mi dà il piacere di cambiare? Perché noi dobbiamo creare un'alleanza con la nostra parte emotiva. Quindi dobbiamo cercare di dare un nome alle emozioni. Dobbiamo cercare di far sì che le nostre emozioni possano essere chiare dentro di noi. Per sapere esattamente che emozioni voglio provare. Quindi, le emozioni sono fondamentali. Perché le emozioni sono un po' il carburante che mi spinge a raggiungere un obiettivo. Ecco, questo è fondamentale. Fatti queste sei domande e vedrai che se prendi tutto il tempo, serve del tempo per fare questo un lavoro, però ti darà ottima opportunità di cambiamento. Bene, ti ricordo questa sera a San Valentino, venerdì 14 febbraio 2020, viene a Torino al mio seminario su come avere fascino per farti amare. E a Milano, domenica 1 marzo, full immersion, 930-19, tostime e seduzione, in amore al lavoro. E il riferimento è sempre al 333 1511 703. Bene, abbonati al canale Massimo Terramasco per il tuo percorso di crescita personale e abbonati al canale Felicità Benessere. Ciao a tutti!